Buonasera a tutti. Abbiamo cominciato, non abbiamo ancora cominciato la prima guerra dell'indipendenza. Adesso la cominceremo. Perché? Perché, come vi ho detto, in Europa si sono scatenate delle rivoluzioni dovunque. Tutti i governi, almeno all'inizio, sono stati abbattuti, beati loro. Questa cosa porta inevitabilmente ad uno sconquasso politico. I principi, molti scappano, si rifugiano chi a Vienna, chi in Svizzera, chi dal regno delle due Sicilie. In Italia c'è molto fermento e tutti hanno l'impressione che, beh, stavolta forse, succede qualcosa. Succede qualcosa? Sì, succede. Succede che Milano insorge e con le famose cinque giornate riesce a cacciare gli austriaci dalla città. Ci sono molti episodi, molti negoziati, molte vicende. Facendola breve, in cinque giorni i milanesi riescono, con le barricate, a cacciare praticamente gli austriaci dalla città. Gli austriaci si ritirano, vengono colti di sorpresa. Non solo sono colti di sorpresa dagli eventi, ma hanno anche delle difficoltà pratiche che nascono dal fatto che in realtà non ricevono ordini da Vienna e non sanno cosa fare. e non ricevendo ordini da Vienna sono sbandati. L'esercito poi, o meglio, le truppe di stanza nel Lombardo-Veneto, perché poi di questo parliamo, sono sparpagliate. Sono nelle fortezze, nelle piazze forti, ma le guarnigioni di stanza nelle varie città sono abituate a un regime di pace. Vedersi sparare contro crea un disorientamento generale e Radischi, il maresciallo Radischi, tra l'altro con un'amante italiana, totalmente italianizzato sotto molti aspetti, eccetera, eccetera, si perde. Non riesce a far fronte a questo fuoco generalizzato in Lombardia, ma anche in Veneto. Non ha molte forze a disposizione. C'è una forza di riserva austriaca che per caso è vicino Venezia, ma si fa per dire è a Gorizia, è al di là di Gorizia, è quella che oggi sarebbe la Slovenia. Quindi dovrebbero spostarsi per arrivare ai Lombardieri. In sostanza, la rivoluzione a Milano e la rivoluzione a Venezia mette gli austriaci in enorme difficoltà. E l'unica cosa che Radischi pensa di fare, ragionevolmente, è quella di ritirare via via le proprie tuffe del quadrilatero di Mantua e di Peschiera in attesa, prima di tutto, di capire che cosa voglia fare il governo di Vienna, perché non lo sa. In secondo luogo, in attesa dell'arrivo dei rinforzi del generale Nugent, perché a quel punto invece di 20.000 saranno 70.000 uomini e i discorsi cominciano ad essere diversi. In questa incertezza e in questo ripiegamento delle forze militari austriache, i milanesi e i di Veneti contemporaneamente si chiedono, e adesso che facciamo? Una volta cacciati gli austriaci, facciamo un governo provvisorio. Governo provvisorio, chiamiamolo governo commissariato, giunta, direttorio. Non ha importanza. Bisogna dirigere la città e il contado. E questo vale tanto per la Lombardia quanto per il Veneto. Il Veneto darà luogo a quella che verrà chiamata poi la Repubblica del Leone. In Lombardia, che forse hanno meno fantasia, non gli danno un nome, è un comitato provvisorio, ma si rendono benissimo conto di due cose. Primo, che la reazione austriaca non si farà attendere. Secondo, che hanno bisogno di un sostegno esterno, chi potrà sostenere la Lombardia ed il Veneto? È solo il Piemonte, perché il Piemonte è l'unico che ha rapporti un po' incagnesco con l'impero austriaco, è l'unico che ha accolto i fuoriusciti liberali, è l'unico che ha uno statuto, uno statuto albertino. Carlo Alberto, il re, è un giovane ottono, un po' timido, un po' incerto, però sembra una persona perbene, ben diverso dal suo precedente, che era Carlo Felice, odiato da molti, che ha un carattere spigoloso, un po' negativo. E quindi si rivolgono, mandano delle ambascierie a Carlo Alberto, sia ai Lombardi che ai Veneti, in tempi diversi. Il Piemonte è preso di contropiede, nessuno si aspettava questa rivoluzione. Anzi, vi correggo, dinanzi a questa rivoluzione la parte, diciamo, ma più intelligente del Piemonte, l'elite, si chiede, ma arriverà anche a noi? Anche a Torino ci sarà una rivoluzione? Queste voci arrivano a Carlo Alberto e Carlo Alberto e i suoi consiglieri si rendono conto che o pilotano la rivoluzione liberale o rischia anche Torino di essere travolta da un'insurrezione locale. E allora Carlo Alberto cavalca la tigre, accoglie l'invito dei milanesi, accoglierà dopo qualche giorno l'invito dei Veneti. L'esercito sardo si muove. Ora, questa cosa che ci sembra quasi automatica, quasi pacifica, non è una cosa così semplice. Il regno di Sardegna è un piccolo regno, è un'Albania, grosso modo, con molto rispetto per l'Albania, che dichiara guerra alla Russia di Putin, tanto per intenderci come proporzioni. È una follia, se vogliamo. È una follia minore di quella che sarebbe oggi, perché gli strumenti di offesa e di difesa allora erano relativamente analoghi. Non c'erano i missili, non c'erano gli aerei reazione, non c'erano i carri armati, quindi si combatteva uomini contro uomini e cavalli contro cavalli. Poi artiglierie più o meno pesanti, più o meno leggere, quindi le forze sul campo, 20.000 sabbaudi e 20.000 austrieci si equivalgono. Ma il retro dell'esercito sabbaudo è povero, darà altri 20.000 uomini, altri 30.000 uomini, 50.000, ma il retro dell'impero austriaco è di 400-500.000 uomini. C'è un impero dietro, quindi la sproporzione è gigantesca. Ma la mossa di Carlo Alberto non è soltanto per evitare casini a casa propria, cosa più che logica, ma anche perché conta su due fattori importanti, anzi tre diciamo. Primo è il disfacimento degli stati centrali, perché nel momento in cui scoppiano le rivoluzioni, Firenze, Modena, Toscana, Parma, gli stati pontifici entrano in ebollizione. E quindi questo è un incentivo a farsi strada, a sgomitare, per Carlo Alberto. Il secondo elemento è che c'è il fronte interno-esterno, cioè il fronte lombardo e veneto, che è favorevole. Quindi l'esercito sardo, sia pure piccolo, sarà aiutato certamente dal movimento che si è creato in Lombardia e in Veneto. Quindi si conta su questa situazione. Terzo elemento è l'elemento di sorpresa. L'Austria non ama i Piemonti, il Regno di Sardegna, ma non si aspetta che ne muova guerra, soprattutto in questo frangente. E in questo frangente poi l'Austria dove? Chi è? Metternich è uscito di scena, cacciato da una sollevazione popolare. L'imperatore è assolutamente sbandato. L'unica struttura che regga in questo momento nell'impero austriaco è l'esercito, ma è senza ordini. Infatti vediamo Radeschi, che pure non è un personaggio di secondo piano, che sceglie di ritirarsi nel quadrilatero e dice intanto prendiamo tempo e vediamo quello che succede. Perché se ad esempio a Vienna fosse stata proclamata la Repubblica, per dire, probabilmente le truppe austrieche sarebbero dovute rientrare nel territorio austrieco e abbandonare il Lombardo-Veneto. Se viceversa l'imperatore dice ma che scherzate, ricostituiamo i confini così come erano prima della rivolta milanese, allora Radeschi con l'aiuto di Dugent può riconquistare le città perdute. Quindi quando Carlo Alberto si muove, non si muove perché è un liberale, lo è, in realtà lo è, ma lo è molto di meno di quanto non si pensi. Non si muove perché odia l'Austria, non l'ama, ma considera necessario salvaguardare il Piemonte, il suo regno dai movimenti rivoluzionari mettendosi alla testa dei movimenti rivoluzionari. L'esercito sardo-piemontese non è un grande esercito, l'ho detto prima. È un esercito di mestiere, è un esercito rispettabile. Sono circa 45.000 uomini, non è roba da poco. Sono divisi in due corpi d'armata. Il primo corpo d'armata lo comanda un generale, Eusebio Bava, e il secondo corpo d'armata è guidato da Ettore Gervais de Sonnard. Poi c'è l'artiglieria, che è importante, significativa per il piccolo esercito San Mauro. Ed è guidata da Ferdinando di Savoia, uno di casa Savoia che poi incontreremo fra poco per una questione siciliana. In più c'è una divisione di riserva. È l'unica riserva che ha l'esercito San Mauro. È una divisione che è guidata dallo stesso re. Valcano il confine. Dichiarazione di guerra all'Austria, esaltazione milanese e vento. I milanesi mandano una delegazione però a Carlo Alberto e gli chiedono alcune cosette. Dicono praticamente sei bene accolto. Però, attenzione, la bandiera con la quale l'esercito San Mauro entrerà nel territorio Lombardo-Veneto deve essere il tricolore. Allora andate, è una richiesta pesante. Perché qualche settimana prima Carlo Alberto aveva firmato il famoso statuto albertino, che all'articolo mi pare o tre o cinque stabiliva che la bandiera dello Stato era la bandiera Savoia. Ma lui accetta questa condizione. In fretta e furia si cuciono le bandiere tricolori, con lo stemma Savoia al centro nel bianco, e l'esercito Savoia varca il confine austro-ungarico, cioè il confine lombardo. La seconda questione che pongono i milanesi è, maestà, voi venite a Milano e sarete bene accolto. Ma prima ci dovete dare una dimostrazione pratica, che avete sconfitto gli austriaci, che vi siete battuto contro gli austriaci. Non è che vi regaliamo la città, perché vi muovete. Dovete farci vedere che volete effettivamente la guerra. Carlo Alberto accetta questa condizione. Terzo punto che chiedono i milanesi, non entrate con le truppe a Milano, se prima il comitato provvisorio non ne è informato. E anche questo lo accetta Carlo Alberto. E quindi le truppe Savoia, sventolando la bandiera tricolore, questa è una cosa molto importante, entrano in guerra. Questo fatto destra una sensazione gigantesca in tutta la penisola. non solo gli animi sono piuttosto eccitati da queste rivoluzioni, dalla cacciata dei dughi, dei principi, ma l'idea che un re di uno Stato italiano si muova contro l'impero austriaco che ha egemonizzato tutta la penisola è una cosa che sollecita l'orgoglio e la voglia di partecipazione. e gli stati italiani parteciperanno a questa avventura. Lo Stato pontificio invia addirittura un corpo d'armata, Pio IX, pensate, Pio IX, dice ok, invia un corpo d'armata, due divisioni di circa 18.000 uomini, 900 cavalleggeri e 22 pezzi di artiglietti. Chi li comanda? Un generale che troveremo per tutto il periodo delle guerre risorgimentali, Giovanni Durando. Inoltre il Papa mobilita, diciamo, si chiamava la Guardia Civica Mobile e una serie di reparti di volontari che saranno guidati, pensate, da un repubblicano. Come dire che un comandante comunista guidava una formazione della Repubblica Sociale all'epoca, no? Un repubblicano che si arruola e che guida un gruppo di volontari inseriti nell'armata del Papa, un sacrilegio. Ma questo che cosa dimostra? Dimostra l'interesse, l'ecitazione, la partecipazione forte che c'era in questo momento in Italia. Anche il Granduca di Toscana si muove. Il Granduca di Toscana è parente stretto dell'imperatore d'Austria. Manda 6.000 uomini, fra truppe regolari e volontari. Comandati prima da un generale, un certo Ulisse d'Arco scomparso nella storia. E poi da un altro generale, un certo Cesare de Laugier, che ritroveremo nel corso del Risorgimento e che sarà uno studioso di tattica militare, scriverà tantissimi libri. È un personaggio scomparso nelle cronache, ma che è stato un personaggio estremamente importante nella storia del Risorgimento. Ma soprattutto c'è una cosa meravigliosa. Si arruolano nell'esercito toscano i volontari. C'è un battaglione di studenti universitari che si andranno a coprire di gloria. E chi guida questi ragazzotti entusiasti all'idea del tricolore? Pensate. Non li guida un generale. Li guida il loro professore, che è un astronomo, Ottaviano Fabrizio Bossotti. Rifletteteci un attimo. È un miracolo. Li vedete i nostri ragazzi universitari guidati dal loro professore che si arruolano per andare a combattere e a morire per l'indipendenza, non so, dell'Istria? No, non li vedete. Si muove financo il regno delle due Sicilie, il Borbone, strettamente imparentato con l'impero austriaco. Ma c'è un tale flusso di consensi verso l'iniziativa di Carlo Alberto che il regno delle due Sicilie non può restare fuori dal gioco. E invia 16.000 uomini guidati da un altro signore che ritroveremo spesso, anche fra poco, il generale Guglielmo Pepe. Vorrebbe mandare di più il re, ma non può perché nel frattempo potevesse dare una ennesima rivolta in Sicilia. L'esercito duo siciliano arriva per ultimo sul fronte. Un po' perché, diciamo, il regno delle due Sicilie non era velocissimo nelle sue decisioni e un po' anche perché venivano dal sud. Quelli andavano a piedi, a piedi o a cavallo. Solo i generali andavano in carrozza quando ce l'avevano. Quindi bisogna risalire tutta la penisola e arrivare sul fronte Lombardo, Veneto che sia. Dinanzi a questo sforzo collettivo, ragazzi, lo Stato Pontificio, il Gran Ducato di Toscana, il regno delle due Sicilie, voi capite che il Duca di Modena e di Parma si sentono stretti, si sentono accerchiati, tutti loro legati con legami dinastici, all'impero d'Austria. Abbandonano le capitali, scappano, praticamente scappano. Hanno paura di essere impiccati. Si costituiscono a Modena e a Parma dei governi provvisori e anche loro mandano dei volontari. Piccoli reparti, perché sono paesi piccoli, ma anche loro partecipano a questa grande avventura, che è la prima guerra d'indipendenza. Di fronte ai 45.000 sardo piemontesi, ai 18.000 pontifici, ai 6.000 toscani, ai 16.000 duo siciliani, c'è Radeschi. Radeschi dispone di due corpi d'armato, 70.000 uomini in Lombardia e in Veneto e 20.000 uomini di riserva del generale Nugent, a 90.000 uomini a disposizione. Pesano questi raffronti. Ricordiamoci. La prima fase della guerra d'indipendenza, che è la guerra d'indipendenza a due fasi, che adesso vedremo, nella prima fase l'esercito sardo entra come un coltello nel burro. C'è confusione a Vienna, Radeschi si è ritirato nel quadrilatero, non c'è resistenza. Le truppe sarde raggiungono Milano, superano Milano, ottengono i primi successi negli scontri al ponte di Goito, arrivano al Mincio e finalmente a Pastrengo, sull'Adige. Sono tutti nomi di battaglie vinte dai sabaudi. Però succede qualche cosa. Vienna sta riprendendo le redini dell'impero e allora cominciano le pressioni. La pressione più importante viene esercitata nei confronti di Roma, dello Stato Pontificio. Ci sono dei cardinali che vanno dal Papa e gli dicono Santità, ma le sembra il caso? Lei che è il capo della cristianità di dichiarare la guerra a un paese cattolico come l'Austria? Non va bene. E il Papa ci ripensa. E a quel punto ordina alle truppe pontifice di tornare nello Stato da cui erano partite. Questo crea uno sconcerto gigantesco. Ma come truppe mandate per combattere, dopo una settimana o due, arriva l'ordine di tornare indietro. A che scherziamo? Una parte dell'esercito diserta. Con il generale Durando, quindi con il capo della spedizione, si rifiuta di tornare indietro, di ubbidire agli ordini del Papa. Solo pochi rientrano nei territori pontifici. Però questo ripensamento del Papa crea uno scoramento generale, una grande costernazione. Ma come? Pio IX, il Papa liberale, ha addirittura deciso di inviare un esercito per liberare la Lombardia dagli austriaci? E adesso si tira indietro. Sì, certo, un Papa non può fare la guerra ad altri cristiani. Però l'effetto negativo è terribile. La guerra continua, perché poi sul fronte ci sono sostanzialmente le truppe sardo-piemontesi, che ottengono un altro successo, in un piccolo sconto, poi esaltato dalla stampa risorgimentale, a Santa Lucia, e costringono gli austriaci a ritirarsi su Verona. Quindi siamo nel territorio Veneto. Attenzione. Ma intanto cominciano ad arrivare alle riserve i 20.000 uomini del generale Nugent. Battaglia di Cornuda. Il nome non è ottimista. Il generale Durando, ex generale pontificio che ha disertato, eccetera, eccetera, viene battuto e deve ripiegare su Treviso. Gli austriaci tentano un attacco su Vicenza, ma vengono rispitti. Successo. A questo punto altro colpo di scena. Il re delle due Sicilie, Ferdinando II, ordina alle proprie truppe il ritiro dal fronte. Un'altra volta. Oltre al Papa, anche il re delle due Sicilie. Ma allora questi hanno scherzato. Non è gente seria. Non è gente credibile. Circa la metà dell'esercito borbonico diserta con il suo comandante il generale Pepe e continuerà a combattere. L'altra metà ritornerà ammestamente a casa propria. Naturalmente questa defezione dell'esercito pontificio e dell'esercito duosiciliano, ma soprattutto l'effetto politico di questo ripensamento crea una situazione di forte disagio in tutto il settore combattente. e a questo punto gli austriaci approfittano. Lanciano una forte offensiva con 45.000 uomini. Immaginate 45.000 uomini non dietro i carri armati, ma a piedi, a piedi, nella pianura, su Curtatone e Montanara, alla destra del fiume Mincio. chi difende queste posizioni? Circa 20.000 uomini, la metà, meno della metà. Ma c'è il corpo di spedizione toscano di Delogé che combatte e soprattutto c'è il battaglione universitario guidato dal nostro professore astromamo che resiste gloriosamente sino allo stremo, permettendo al resto delle forze sabaude di ritirarsi e di concentrarsi in buon ordine. Curtatone e Montanara è il sacrificio del battaglione universitario toscano. È una gloria, una gloria italiana, una gloria toscana, una gloria universitaria. erano quattro gatti e l'offensiva austriaca viene bloccata a Goito. Battaglia di Goito, non succede nulla, ma l'offensiva austriaca di rilancio con le forze di Nugent viene bloccata e addirittura avendo i sabaudi assediato la fortezza di Peschiera, Peschiera è costretta ad arrendersi. È il punto più alto della campagna di questa campagna militare. Ma ormai la sproporzione delle forze diventa eccessiva. Inoltre gioca un fattore importante. Le truppe austriache sono truppe regolari, addestrate da tempo da radeschi e da generali che sapevano il fatto loro, su di un territorio che era noto loro perché era il loro territorio, diciamo. Queste truppe erano saldamente manovrate e intelligentemente coordinate, cosa che non accade per l'esercito sabaudo. Ma non perché l'esercito sabaudo non sia guidato da gente intelligente o non sia coordinata, ma perché al fronte, se vogliamo chiamarlo così, sono confluenti un po' di tutti, i toscani, i pontifici, gli zuavi, gli studenti universitari, i due siciliani, con le loro divise, con le loro bandiere, con i loro generali. C'è una confusione enorme. Non c'è un coordinamento, non c'è uno Stato maggiore unico che coordina le forze. e in più, difetto frequentissimo nell'esercito italiano, mancano le carte topografiche e quindi, mentre gli austrieci si muovono sapendo dove e come muoversi conoscendo il terreno, i sabaudi, diciamo, sì, i sabaudi, chiamiamoli in genere sabaudi, accoppiamoli tutti, si trovano in difficoltà. Dopo due giorni di combattimento e di bombardamento pesante, Vicenza, che è difesa dalle ex truppe pontifice, cioè da Durando, deve essere abbandonata. E subito dopo rientrano nelle mani austriache Padova e Treviso. L'onda di riflusso austriaco arriva a Custoza. 20-25 luglio 1848. La guerra è cominciata il 23 marzo datevi una regolata. A luglio le truppe austriache, ormai che sono numericamente massicce, sfondano lo schieramento sardo-piemontese che è costretto a ripiegare su Goli. A questo punto c'è uno sbandamento dell'esercito e Carlo Alberto riunisce un consiglio di guerra. Siamo al 27 luglio del 48. che vogliamo fare? Le truppe sabaute sono un po' sbandate. Si vanno ricomponendo dietro il fiume Hadda. La prospettiva è che se gli austriaci riescono a premere e abbarcare l'Adda riescono a raggiungere Milano e Milano dovrebbe essere difesa casa per casa. Allora ci si consulta. Che si fa? Prevale la saggezza e la saggezza è chiediamo una tregua. Non possiamo difendere Milano o distruggere Milano. Milano è troppo prezioso non solo per l'Italia ma anche per i milanesi. E d'altro canto difendere Milano significa farsi accerchiare dagli austriaci. Chiediamo una tregua. Nel frattempo gli austriaci riescono a abbarcare l'Adda e l'esercito sarto-piemontese deve schierarsi attorno a Milano. Ma si avviano trattative con Radeschi. Radeschi pone delle condizioni bollate Milano e il resto della Lombardia. Volete la tregua? Andate. Superate. Ritornate nei vostri confini e poi ne riparliamo. E questo è il famoso armistizio di Salasco. Salasco non è una città. Salasco è il nome di un generale Carlo Felice Canera di Salasco che viene inviato da Carlo Alberto a negoziare la tregua. Finisce la prima fase della prima guerra di indipendenza. Siamo a 9 agosto 1848. Nell'intervallo perché ci sarà una seconda fase che verrà fra sette mesi avvengono altre cose in Italia. Abbiamo visto che il re delle due Sicilie non aveva potuto in quel momento di esaltazione inviare tutto l'esercito perché parte del proprio esercito era impegnato a domare la rivolta siciliana. Perché anche la Sicilia approfittando dei moti del 48 si è ribellata, ha nominato un suo parlamento, ha approvato una nuova Costituzione e addirittura il 10 luglio del 48 per Mestizio di Salasco il 9 agosto. Il 10 luglio del 48 ha nominato un nuovo re di Sicilia. E chi è questo nuovo re? È quel Ferdinando di Savoia, duca di Genova di cui vi ho parlato prima che è il comandante dell'artiglieria Sabauda. Quindi è una chiara espressione da parte dei siciliani di aderire al movimento insurrezionale e di procedere verso l'annessione al Piemonte, al Regno di Sardegna. Ferdinando di Savoia che sta combattendo ringrazia i siciliani e dice ragazzi insomma c'è un po' da fare per il momento possiamo parlarne tra qualche mese? La cosa raffredda un po' gli entusiasmi dei siciliani ma ovviamente il duca di Genova non può lasciare l'esercito per andare a fare il re di Sicilia ed inoltre Ferdinando II re delle due Sicilie sta per inviare un corpo di spedizione per riprendere possesso della Sicilia guidato da un generale Carlo Filangeri principe di Satriano e quindi in Sicilia in questo momento c'è una guerra una guerra fra un raffazzonato esercito siciliano un governo e un Parlamento creati lì per lì e le truppe borboniche che vengono dal continente a Venezia che succede? abbiamo visto Milano prima accerchiata e poi ormai presa dagli austriaci Venezia è rimasta un po' fuori Venezia si è ribellata però ha perduto le città della terraferma Treviso Udine Vicenza Padova Verona quindi è rimasta Venezia ancora libera la Repubblica di San Marco anche qui il Parlamento Veneto come vi ho detto aveva deciso l'annazione al Regno di Sardegna e Carlo Alberto ha inviato degli emissari a Venezia per concordare come fare e addirittura la flotta sarda ha fatto il giro della penisola e si è presentata davanti a Venezia qui c'è una ragione che vi spiegherò meglio quando parleremo della Repubblica Veneta della storia di questa Repubblica la flotta sarda viene messa lì perché c'è anche la flotta austriaca che appola la flotta sarda va a bloccare la flotta austriaca ma con l'armistizio di Salasco ovviamente così come le truppe viemontesi devono rientrare nei loro confini così la flotta sarda deve abbandonare la rigata assume il controllo della città e della Repubblica del Leone Daniele Manin un nome che qualcuno di voi ricorderà che nomina comandante dell'esercito Veneto il generale napoletano Guglielmo Pepe quello che guidava le truppe duo siciliane che ha disertato e si è ribellato agli ordini del re e che va a difendere Venezia e Guglielmo Pepe riesce ad avere alcune vittorie perché intanto gli austriaci dopo aver stretto in una morsa la Lombardia e il Veneto e ottenuto l'armistizio si stanno adesso riconcentrando le loro spalle per accerchiare Venezia Pepe ottiene alcune vittorie riesce a cacciare gli austriaci da mestre e comincia l'assedio della Repubblica del Leone ma questo lo vedremo più in dettaglio quando parlerò della Repubblica di Venezia allora abbiamo visto quello che sta accadendo nel regno delle due Sicilie in questo intervallo abbiamo visto quello che sta accadendo a Venezia in questo intervallo e in Toscana che succede? Peggio ancora la guerra va male secondo il Gran Duca a Roma si sparge subito la notizia che è stato assassinato Pellegrino Rossi che era stato nominato dal Papa leader diciamo capo del governo liberale pontificio in realtà il capo del governo è sempre un cardinale formalmente ma Pellegrino Rossi che è un uomo insigne che è una specie di diciamo di draghi di allora viene nominato dal Papa capo del governo Pellegrino Rossi ha delle idee di riforma dello Stato pontificio e comincia subito una Costituzione un'assemblea legislativa vuole fare degli investimenti nel diciamo un recovery fund ante l'itteram però agli occhi dei liberali e soprattutto degli estremisti liberali e di quelli che sono tornati dalla Lombardia in base al rifiuto del Papa ma sono incavolati con il Papa per la brutta figura che ha fatto è un nemico perché Pellegrino Rossi non vuole abbattere lo Stato pontificio vuole ristrutturarlo vuole renderlo migliore ma alle frange estremiste liberali rivoluzionari questo non piace e Pellegrino Rossi il giorno in cui si inaugura il Parlamento che lui ha voluto per approvare le riforme che lui propone alle 13.20 salendo il palazzo della cancelleria viene ammazzato con un colpo di pugnale questo delitto sconvolge diciamo il panorama politico italiano sia perché l'uomo è in signe sia perché immaginate se ammazzassero Draghi mentre va in Parlamento succede inferno il Gran Duca di Toscana abbandona Firenze si rifugia su una nave inglese distanza Santo Stefano che poi lo porterà a Gaeta nel regno delle due Sicilie un posto tranquillo sicuro tanto c'è un re assolutista e il governo di Firenze viene assunto da un certo Giuseppe Montanelli lontano parente del nostro Indro e a Firenze arriverà anche Giuseppe Mazzini e si proclama la Repubblica Toscana mentre a Roma dopo l'assassinio di Pellegrino Rossi il Papa non si sente più sicuro si traveste da prete non da Papa monta su una carrozza e fugge a Gaeta sempre nelle braccia dell'amato Ferdinando II re delle due Sicilie e a Roma che accadda? A Roma si proclama la Repubblica Romana la gloriosa fatemelo dire Repubblica Romana che sarà preseduta da un triunvirato con Mazzini Saffi ed Armellini e a quel punto nello sfacero generale di quello che sarà la fine della prima guerra di indipendenza tutti i volontari tutti i volontari i liberali italiani i repubblicani italiani i massoni italiani carbonari italiani gli uomini della giovane Italia gli intellettuali italiani affluiranno a Roma con Garibaldi per la difesa e il sostegno della Repubblica Romana questo è quello che accade tra l'armistizio di Salasco e la ripresa l'inizio della seconda fase della guerra di indipendenza passano sette mesi praticamente perché l'armistizio era se non sbaglio dell'agosto sì del 9 agosto e nel marzo del 1849 quindi agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo passano otto mesi Carlo Alberto riunisce i suoi generali e dice che vogliamo fare sta tregua ad infinitum oppure vogliamo riprendere la guerra e il Parlamento dirà riprendiamo la guerra Parlamento c'è il Parlamento a Torino è l'unica capitale italiana che ha un Parlamento che si esprime e dice riprendiamo la guerra olore a questo coraggio nel frattempo Carlo Alberto ha un po' rimaneggiato i quadri dell'esercito ha esonerato due generali Carlo Salasco e Eusebio Bava Ettore De Sonnazze e gli viene un'idea fulminante prendiamo un esperto in Italia si nominano i comitati degli esperti i commissari straordinari e a lui gli viene più o meno la stessa idea chi comanderà l'esercito sardo? un generale polacco è incredibile un certo Wojciech Czernowski noi ci possiamo chiederlo giustamente ma come gli è venuto in mente ma proprio un generale polacco non era mica perché fosse un cattivo generale anzi no Czernowski è una gloria nella storia polacca Czernowski era un generale che aveva combattuto un po' dunque aveva combattuto con i polacchi contro i russi aveva combattuto con i polacchi contro i tedeschi poi Esule perché questi sono tutti Esule era andato in Turchia in Turchia gli avevano proposto ad addestrare l'esercito turco in Turchia gli hanno proposto di diventare il comandante dell'esercito turco ma lui ha detto no grazie posso farmi musulmano per dirigere un esercito ed era ritornato in Europa quindi era un esperto d'armi ma libero un consulente diciamo ma era soprattutto ed è per questo che è famoso in Polonia un grande geografo perché i geografi sono importanti nelle arti militari ed è quello che ha fatto la prima diciamo non la prima ma la prima cartografia recente della Polonia dell'Ottocento ben inteso quindi è un personaggio nel mondo polacco Carlo Alberto decide di affidargli il comando dell'esercito il problema linguistico non esiste tutti parlano francese e l'esercito nel marzo del 49 si concentra attorno a Novara che è la prima città piemontese eh sì piemontese che potrà subire l'attacco austriaco non c'è niente di strategicamente determinante in questa concentrazione di truppe attorno a Novara solo il buon senso il 20 marzo ricomincia la guerra ricomincia la seconda fase della prima di indipendenza della guerra di indipendenza e attaccano gli austriaci sono 75.000 uomini che varcano il Ticino venendo da Pavia e piombano sul Novara chi li fronteggia? Beh dovrebbero fronteggiare i serdo piemontesi che sono divisi ovviamente in vari corpi d'armata attorno a Novara l'impatto iniziale avrebbe dovuto sopportarlo il generale Ramorino chi è Ramorino? Facciamo una piccola parentesi Ramorino è un generale è un generale anche lui ha combattuto dovunque ha combattuto con Napoleone cioè non è un personaggio di secondo piano è un mazziniano convinto e quando Mazzini qualche decennio prima in una delle sue infinite imprese sfortunate ha organizzato un'insurrezione in Savoia motivo per la quale poi è stato esiliato e comandato a morte fino alla fine è il generale Ramorino che guida gli insorti quindi è un uomo di sicura fede Ramorino è convinto in buona fede non ho dubbi personalmente che quella dell'esercito austriaco sia una fitta quella di spararsi su Novara e magari attaccare da un'altra parte quindi l'esercito sardo si concentra davanti a Novara lascia sguarnita la frontiera a destra o a sinistra dello schieramento e gli austriaci passano e allora convinto di questa astuzia austriaca lascia poche truppe sul posto a fronteggiare 75.000 uomini truppe che vengono immediatamente travolte per cui Ramorino è costretto a ripiegare e scopre il fianco dell'esercito piemontese comincia uno scontro furioso che dura per tutta la giornata del 23 marzo gli austriaci vengono bloccati alla sforzesca ma sbloccano sfondano a Mortara il generale la marmora sabaudo arriva con una forza d'attacco per sanare la falla ma questa forza d'attacco viene annientata dalla superiorità numerica austriaca si combatta spremente intorno a Novara e alla fine la linea difensiva sabauda si sbriciola i collegamenti diventano incerti i soldati cominciano a sbandarsi la notte del 23 marzo Carlo Alberto riunisce il consiglio di guerra la battaglia è perduta non c'è tutto ma forse si è perduta anche la guerra e Carlo Alberto dice a questo punto io ci ho provato preferisco lasciare il trono abdicazione di Carlo Alberto nessuno può opporsi alla volontà del sovrano e il giorno dopo un giovane ottello anche se ben piantato invia i suoi missari a Radeschi chiedendo un armistizio l'armistizio di Vignale che sarà poi ratificato dalla pace dalla pace di Milano il 6 agosto del 1849 praticamente è passato un anno chi è questo giovane ottello ben piantato è il nuovo re quello che sarà Vittorio Emanuele II il quale ha combattuto è stato nella prima fase è stato nella seconda fase ma sempre un po' indietro perché è l'erede al trono all'improvviso diventa re e all'improvviso si trova confrontato con Radeschi la vecchia volpe di una ancora più vecchia volpe che l'impero austriano Radeschi pretendono condizioni condizioni piuttosto dure pretendono l'occupazione di Alessandria dove resteranno per otto mesi con una guarnigione austriaca e poi fra le altre cose indennità di guerra scusate tanto eccetera eccetera pretendono la cancellazione dello statuto albertino e a questo punto bisogna dirlo anche se io non sono un filo sabaudo un filo samoyano Vittorio Emanuele si impunta lo statuto è stato approvato da Carlo Alberto lo statuto è la carta costituzionale del regno di Sardegna dite quello che vi pare fate quello che vi pare io non abrogo lo statuto è la carta costituzionale di mio regno si impunta a brutto muso con Radeschi e Radeschi si piega e il regno di Sardegna è salvo dal punto di vista costituzionale finisce la prima guerra d'indipendenza se per prima guerra d'indipendenza intendiamo la guerra mossa dal regno di Sardegna contro l'Austria in realtà la guerra continua ma non è più la guerra di indipendenza diventa una guerra di restaurazione perché il collasso del regno di Sardegna segna la fine dei movimenti libertari in Italia le truppe austrieche al solito stavolta guidate da un Feldmarschallo Constantin Daspre 18.000 uomini e 100 cannoni tanto per intenderci entrano negli stati centrali italiani e riportano sul trono i duchi di Modena e Parma e il granduca di Toscana in Toscana i livornesi non ci stanno continueranno a resistere la rivolta di Livorno durerà due giorni ma Livorno si piegherà sarà saccheggiata e centinaia di persone saranno fucilate per aver resistito all'esercito austriaco inoltre gli austrieci entrano nello stato pontificio ripristina il vecchio ordine nelle legazioni di Romagna in Emilia e nelle Marche Bologna e Ancona avevano aderito alla Repubblica Romana Bologna viene sottoposta a un bombardamento di 48 ore e alla fine la città si devarrete dopo Bologna le truppe austrie che puntano su Ancona che sottopongono ad un massiccio assedio navale e terrestre dopo 25 giorni di combattimento e di assedio i difensori devono arrendersi avranno l'onore delle armi ma Ancona è perduta ritorna allo stato pontificio chi resta in vita dopo questo disastro la Repubblica Romana e la Repubblica di Venezia la Repubblica delle Uri in Sicilia la spedizione borbonica del principe di Sadriano il generale Filangeri sconfigge facilmente l'esercito siciliano il 15 maggio del 49 anche qui i siciliani non sapendo a chi rivolgersi si erano rivolti ad un generale polacco i polacchi avevano molta fortuna perché i polacchi oppressi dai prussiani dai russi e dai tedeschi erano una banda di esuri quindi i professionisti anche delle armi giravano il mondo cercando di campare perché se tornavano in patria venivano fucilati perché erano rivoluzionari questo generale polacco si chiama Ludwig Mieroslavski ma non ha fortuna perché mentre l'esercito borbonico è un esercito regolare con i cannoni questo è un esercito raffazzonato tra picciotti volontari intellettuali eccetera e quindi i borbonici rientrano a Palermo restaurano l'autorità del re delle due Sicilie fucilano tutti quelli che possono fucilare e la Sicilia coverà sotto le ceneri il seme della rivolta contro i borboni anche in Piemonte ci saranno dei disordini approfittando della resa del regno di Sardegna approfittando del fatto che nelle clausole di armistizio che poi viene trattato di pace ci possono essere delle modifiche si ribella Genova perché? perché Genova che era una repubblica indipendente il dogato di Genova era stata assegnata alla Sardegna dal congresso di Vienna e i genovesi non avevano amato questa situazione adesso nello sfacelo della prima guerra di indipendenza i genovesi rialzano la testa vogliono l'indipendenza ma il nuovo re Vittorio Emanuele questo ragazzotto ben piantato con i baffoni delle nostre iconografie manda la marmora a Genova e la marmora prima fa bombardare Genova praticamente rada al suolo mezza città e poi attacca Genova con i famosi bersaglieri la riconquista e per premio la fa saccheggiare Genova sarà punita duramente per questo suo tentativo di secessione pensate che alla fine di questo momento da Genova partirà una nave americana che porta in esilio 450 genovesi che sono fra i più compromessi nella sommossa e qui cala la tela sulla prima guerra l'indipendenza siamo arrivati al 1849 la prossima riunione prossimo incontro lo faremo per parlare della Repubblica Veneta e della Repubblica Romana che sono le ultime due isole di resistenza libertaria in questa così difficile costruzione dell'unità d'Italia di cui non dobbiamo vergognarci ma che dobbiamo avere nel cuore bene grazie